Per il personale tecnico-amministrativo prende ora la parola la dottoressa Eugenia Moffa. Illustrissimo Presidente, onorevole Gianfranco Fini, magnifico Rettore, autorità accademiche, civili, religiose, militari, direttore amministrativo, docenti, studenti, colleghe e colleghi, signore e signori, è con vero piacere che vi porgo un cordiale saluto a nome del tutto il personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi di Foggia. L'inaugurazione dell'anno accademico che ci apprestiamo a celebrare rappresenta un'importante occasione per un'attenta e puntuale riflessione su quanto è stato realizzato sin d'ora e quanto saremo chiamati a fare nel prossimo futuro per rilanciare il nostro Ateneo. Sì, ma quale rilancio? Faremo meglio a parlare di sopravvivenza per l'Università. Quale futuro si può prospettare quando tutti i provvedimenti varati dal Governo negli ultimi anni, così come quelli in discussione oggi, sembrano tesi a demolire definitivamente l'Università pubblica, autonoma, democratica, di qualità e per tutti? Il decreto attuativo della legge Brunetta di riforma del pubblico impiego rappresenta un ostacolo al raggiungimento dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche in quanto centralistico, democratico nel sistema dei controlli, di ritorno al passato per i diritti dei lavoratori nel sistema pubblico e nei settori della conoscenza, in aperto contrasto con il principio di autonomia che governa l'Università. La manovra varata a luglio di quest'anno, che infligge ulteriori sanguinosi tagli alle retribuzioni dei lavoratori pubblici e dell'Università, stabilisce il blocco dei rinnovi dei contratti nazionali per gli anni 2010-2013, impone per lo stesso periodo limiti alla crescita del trattamento economico complessivo dei dipendenti. E' come se non bastasse, limita le assunzioni per il triennio 2011-2013, a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Nello stesso periodo il Senato ha approvato il tanto atteso e purtroppo giunto a disegno di legge di riforma dell'Università del Ministro Gelmini, che tutto sembra, tranne che un reale progetto di riforma. Sgombriamo il campo da equivoci, non vogliamo manifestare preclusioni verso la riforma dell'Università, che anzi riteniamo necessaria, visto che il sistema attuale esige una migliore e diversa gestione. Ma è attrettanto vero che la riforma Gelmini sembra più una riorganizzazione aziendale che una vera propria riforma istituzionale, un articolato di principi e strumenti, privo di qualsiasi idea organica di Università, che penalizza gli Atenei del Mezzogiorno. La stessa Università degli Studi di Foggia, con l'attività di ricerca e formazione svolta sul territorio in cui opera, ha sempre rappresentato un importante volano per lo sviluppo economico e culturale del territorio, con cui crea un binomio scindibile e quindi si può affermare, senza timore di smettura, che è una riforma che impoverisce l'Università, non fa altro che impoverire il territorio di riferimento. L'Università rappresenta per Foggia e la capitanata intera, non solo una fonte di cultura e conoscenza, di sviluppo economico e commerciale, ma anche luogo di interazione e confronto. Chiediamo quindi alle istituzioni pubbliche e locali una maggiore collaborazione e auspichiamo che l'avvio di una radicale revisione dei meccanismi di interazione delle stesse con l'impresa e l'Università. Ci auspichiamo inoltre che la Regione Puglia, già dimostratasi sensibile alle problematiche degli Atenei pugliesi, inserisca tra le priorità della sua agenda politica un piano pluriannale di sostegno economico e strutturale al sistema università e preveda una programmazione di investimenti organici alle crescita del sistema stesso e l'occupazione adesso connessa. Magnifico Rettore, siamo certi che anche lei sia consapevole di quanto il personale tecnico-amministrativo del nostro Ateneo abbia contribuito con il proprio impegno e senso del dovere in maniera determinante alla crescita e all'isviluppo della nostra università e riconosca che le scelte politiche operate all'interno del nostro Ateneo fortemente condizionata dai tagli subiti abbiano iniziato un'amministrazione a considerare il personale tecnico come un mero costo. Alla luce di questa considerazione e nell'ambito dei processi di ristrutturazione necessari per l'università che non può e non deve coincidere con quella attualmente in discussione in Parlamento ci preme oggi conoscere quali saranno le politiche che l'amministrazione attoerà per garantire il rispetto della rappresentanza democratica di tutte le componenti di Ateneo nei processi decisionali. Ma ancor più ci preme che in questa sede si possa condividere l'adozione di processi sinergici che negano conto in prima istanza di una valorizzazione delle risorse umane attraverso politiche tese a motivare e a incentivare il personale del nostro Ateneo non più considerato costo ma risorsa su cui investire alla pari delle altre. Particolare attenzione chiediamo a venga riconosciuta ai nostri colleghi precari alcuni dei quali con anzianità di servizio addirittura decennale e cui contratti sono prossimi alla scadenza. Nelle stesse dichiarazioni dell'amministrazione difficilmente questi lavoratori troveranno la possibilità di continuare a fornire il loro preziosissimo contributo spesso fortemente correlato all'erogazione di alcuni essenziali all'interno del nostro Ateneo. Chiediamo con forza che l'amministrazione di concerto con i soggetti istituzionali già in parte presenti oggi adotti tutte le possibili soluzioni per garantire a questi colleghi di poter continuare a prestare servizio nella nostra università. Ci si è consentito a tal proposito porgere un sincero ringraziamento a tutti i colleghi strutturati e non che continuano ad assicurare con il loro impegno quotidiano la puntuale gestione dei servizi di questo Ateneo. Gentile Presidente, a questo punto vorremmo condividere con lei delle riflessioni che vanno oltre le rivendicazioni seppur legittime del sistema università partendo da una considerazione. Il futuro dell'università è strettamente connesso al futuro del sistema paese. In questo momento è in atto nel nostro paese e nelle sue istituzioni un pericoloso processo di disgregazione e le cronache riportano l'immagine di un paese che ha perso il senso dell'orientamento e a cui manca una visione d'assieme. Vi è una piccola parte del paese in cui noi non ci riconosciamo che mira a delegittimare costantemente in maniera indiscriminata lo Stato in quanto tale nella sua accezione più piccola e nella sua funzione di servizio discreditando e colpendo le sue istituzioni più alte come l'amministrazione pubblica l'università la scuola la magistratura tanto per citarne alcune in nome di una generalissima e qualunquista campagna denigratoria nei confronti di chi vi opera. Avvertiamo tutti un forte senso di disagio e disorientamento questo si riflette non solo nelle abitudini quotidiane ma anche nella qualità stessa della comunicazione tra le persone e diventa difficile nei luoghi di formazione come l'università e la scuola riuscire ad assolvere il proprio compito formare persone con una preparazione e una coscienza crida della realtà diventa difficile perché oltre i tagli e le risorse che possono determinare nel breve tempo la fine dell'università pubblica ci troviamo a fare conti con l'attacco ideologico al diritto allo studio oggi presidente si cerca di delegittimare il senso dell'università come sistema di formazione e l'attacco rispetto al passato non è esterno ma interno alle istituzioni sia chiaro non vogliamo né accusare né difendere nessuno siamo consapevoli che in questi apparati esiste una minoranza di persone che non sono particolarmente propense a perseguire il bene comune ad impegnarsi a lavorare per la collettività ma ringraziamo ogni forma di generalizzazione chiediamo anzi pretendiamo che lo Stato individui ed iso di questa minoranza la verità caro presidente che la maggioranza degli italiani lavora fa sacrifici rispetta le leggi e soprattutto paga le tasse a differenza di coloro che vivono alle spalle dei primi e gettano fango sulla credibilità stessa del paese tutto ciò tra l'altro genera un elevato costo sociale che come al solito viene pagato dai più dai e cioè dai giovani lei sicuramente presidente conoscerà le statistiche sulle condizioni dei giovani in Italia sulla loro dipendenza della famiglia di origine un recente rapporto Aerostat mostra come i giovani italiani non solo costituiscono una risorsa scarsa ma anche più sprecata e meno valorizzata che altrove sono oltre 2 milioni gli under 30 che non studiano e non lavorano di solito in una situazione di sospensione tra i prisodi di lavoro precario e corsi di formazione negli altri paesi già prima dei 30 anni i laureati si trovano in vantaggio rispetto a chi è meno qualificato in Italia accade il contrario siamo uno degli stati membri che è più lontani da raggiungere l'obiettivo di proveri giovani alla piena partecipazione alla società e quindi al mondo del lavoro questo è compito dell'università riteniamo che solo investendo nella formazione del capitale umano nella ricerca nell'innovazione si possa sperare di raggiungere una crescita significativa sia economica che sociale e culturale e dare una speranza ai giovani del nostro paese e con essi una reale possibilità di sviluppo dell'economia reale oggi in definitiva i giovani ci appaiano come un esercito immobile ma non sembra un problema prioritario di questo governo eppure presidente costruire una visione del futuro è per il futuro e soprattutto per il nostro mezzogiorno una condizione di sopravvivenza necessaria prima che ancora di sviluppo ciò perché la comunità vive e si proietta verso il futuro dandosi delle regole se questa comunità distrugge le sue regole si dirige verso la confusione e la rottura questo presidente è lo scenario quale oggi assistiamo nel nostro paese si tenta di sovvertire le istituzioni il senso dello stato il suo funzionamento si colpisce l'università ma anche la scuola è la giustizia una nazione uno stato le università la scuola in quanto comunità di persone orientate al bene comune devono sempre rivolgersi ai valori umani ed etici più elevati gli elementi costitutivi di una comunità devono essere un modello di stato al quale ispirarsi identificarsi la condivisione e il rispetto delle regole che la comunità si è data se questo non avviene si risca la disgregazione e l'assenza totale di una prospettiva del futuro e oggi presidente in Italia non si fa futuro scriveva Vittor Hugo il segreto di un grande governo è quello di sapere esattamente la quantità di avvenire che si può introdurre nel presente noi siamo ottimisti ma abbiamo il timore che i giovani italiani ci chiederanno conto di come stiamo costruendo il loro futuro e quello del nostro paese grazie